Ciao, sono Micaela e sono una hairstylist autodidatta. Sì, avete sentito bene, perché non sono una parrucchiera. Sono una appassionata delle trece e la mia passione nasce esattamente 4 anni fa scoprendo dei tutorial sui social. Amo condividere questa mia passione insieme alla mia piccola cameraman che è la mia bimba di 7 anni. Se poi volete vedere tutti i miei tutorial delle mie acconciature e tante tante idee vi aspetto sul mio profilo OnlyFans. Seguitemi! Ciao! Ciao! Ciao!